Ha fatto molto rumore a Isernia il ritrovamento di circa 300 grammi di marijuana all'interno di quello che un tempo era un centro d'accoglienza della città. La struttura in cui lunedì è avvenuto il blitz dei carabinieri è quella di Via Giovanni XXIII nei pressi del Palazzetto dello Sport e appunto ora ufficialmente non risulta più concessionaria della convenzione col Ministero dell'Interno, ovvero dei permessi che delineano i crismi dell'accoglienza. A precisarlo è la prefettura di Isernia che attraverso una nota ha chiarito tale aspetto ricordando che la revoca dei permessi ebbe origine esattamente due anni fa. Era il 28 marzo del 2017 quando polizie e carabinieri intervennero per una violenta rissa tra migranti. Ci furono degli arresti e anche il ferimento di alcuni operatori e il tutto, si disse, era riconducibile a una sorta di faida tra bande rivale di stranieri che si contendevano a una fetta dello spaccio di droga. La prefettura, a seguito di apposito controllo sul centro, risolse per inadempimento la convenzione con la ditta che lo gestiva. Per effetto della risoluzione venne disposto il trasferimento degli immigrati che non avevano preso parte alla rissa presso altre strutture idonee convenzionate. Molti però decisero di non adeguarsi e nei loro confronti, chiarisce ancora la prefettura, al termine di una laboriosa procedura che ha tenuto conto degli esiti di innumerevoli ricorsi giurisdizionali proposti dai migranti contro il trasferimento, venne decretata la revoca della misura d'accoglienza. Sia le revoche sia la risoluzione della convenzione col gestore sono state impugnate dagli interessati rispettivamente davanti al TAR e davanti al Tribunale di Campobasso. Si attendono le decisioni di merito e poiché i provvedimenti della prefettura non sono stati oggetto di sospensiva sono ancora in vigore. In tutto ciò però in quel centro risiedono ancora dei migranti, alcuni di loro pochi giorni fa sono stati trovati in possesso di un ingente quantitativo di droga, un episodio su cui la popolazione di Sernia si interroga e chiede chiarezza. Grazie a tutti.